La seconda categoria è ripetuta. 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 la seconda categoria. Scuota! Il cuore Paolo. Dobbiamo tirare di più. Ancora di più. Non c'è più che altro meglio? Perché stiamo tirando tanto chiotente dire? Non so cosa ne pensi. Maia, palla. Oh, dai raga! Io non avrei messo l'Alecino Se c'è la piazza Vai 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 Sono calati di destra No dai dai Bravo Ale Bravo Dai dai Sì 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 Lui è il nostro primo punto è molto bravo C'è 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 No No Tu ieri hai tolto la caccolina No Che bravo questo Te lo sta dicendo al piede Ma non cosa vada No Vado Vado Solo Vado Vado No Dietro quello blu No Non puoi essere Addosso Mani arbitro Bravo Bravo Ma perché il tre non l'ha preso ma no anche mio figlio Bravo Dai 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 Ma non va bene me ne vado fuori Ale cura cazzo Dai cazzo Strici Ale No 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 Grazie Dai, show, show Piccolo Carmine è piccolo Non ci pensiamo Palla nuoto Deciso Veno nel tiro Andiamo a giocare al gol Vabbè, vabbè, dai Non ce l'hanno capito Adesso nella stessa federazione C'è come si chiama L'allenatore, come si chiama? Oriano Perché allora Oriano Bravo Bravo Guarda, ma ormai Ma perché non l'ho dato a scimmato prima Prima Dai, dai Non ce l'ho proceduto No Si Bravo, Kiko Fai un gioco Fai un gioco Fai un gioco Bello Ezzo Grazie 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 Grazie